Fratelli, immagino. Parenti? Noi no, quando mai? Ma buccarino, mai viste. Mai canosciute. È o vero o no? Mai, papà! Dunque, una delle città più care agli italiani, Napoli, ancora oggi, sconta decenni di malgoverno. Gravi deficit nel bilancio comunale. Il numero dei disoccupati era superiore allo stesso numero degli abitanti. Strade sprofondate, palazzi smottati, il centro storico invaso da eserciti di topi. Insomma, una specie di anno mille. Come siete arrivati a tanto? Prima di tutto, voglio dirlo subito. Ringrazio pubblicamente il nostro partito Boluardo, intendenza, sovrintendenza sulla protezione regionale, oltreintendenza della democrazia di Napoli. Napoli è bella, quant'è bella. Rindo cuore, i figli lontani, vicini, grazie, grazie, grazie assai. Grazie a lei, onorevole Lobove, ed ora a lei, onorevole Lobove. Volesse aggiungere l'onestà da noi dimostrata verso la popolazione, con la popolazione, insieme alla popolazione, dentro alla popolazione, in gula alla popolazione. Grazie, onorevole Lobove, ed ora a lei, onorevole Lobove. Il mio illustre predecessore parlante alludeva la compenegrazione della problematica municipalità. Grazie a noi affaticatori, sempre all'IRT, e all'IRT stanno.